Quale è il punto che lo definiamo un metal in italiano? Non è che vogliamo staccarci dal metal o di staccarci dal tempo, facciamo quello che sentiamo, no? Certo, certo. Non facciamo metal pesante come una volta o veloce come una volta o forse anche perché lo facciamo più veloce in certe canzoni, ognuna è a sé, no? Sì, sì, sì. Perché se no, se canti in inglese, non è che vanno con cercele, wow, 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 all fine, no? Quelle acuzione che abbiamo. Già così in italiano arrivi subito. Il modo più naturale è anche per esprimerti, no? Penso, per arrivare alla tua gente, alla tua stessa gente. E in base a quello che capiranno, quelle poche parole, qua e là, uno va a indagare su questo, su quell'altro fatto. Ognuno deve fare una sua cultura e deve capire. Cerchiamo di risvegliare una coscienza, prima dentro di noi e poi in generale. Carlo, basso. Fulvio, chitarra, cantante. Alessandro, batteria. Scordiamo in giro, adesso ho tutto questo fango. Non sono voi, ma ormai sono stanco. Ciao, ciao.